Ciao mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. La nuova visura catastale. Che cos'è? Dove la puoi richiedere? Come si legge il nuovo modello? Andremo a vedere gli esempi che sono riportati nella guida dell'agenzia delle entrate alla lettura e all'accesso della visura catastale. Prima però lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e se vuoi evitare di fare errori per l'applicazione, per quanto riguarda l'applicazione dei bonus, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della tua casa, troverai in descrizione il link alla playlist degli abbonati dove pubblico ogni settimana nuovi video a risposte che sono risposte alle domande che mi inviate via email su casi pratici. La nuova visura catastale che ormai è il nuovo formato grazie al sistema SIT, il sistema integrato del territorio che si viene via via formando in tutta Italia è online, cioè ti sarai accorto se hai fatto recentemente una visura e se sei un utilizzatore frequente delle visure catastali ti sarai accorto che il formato è cambiato. Prima il formato era orizzontale con un layout molto semplice, ora il formato è verticale sul foglio e ci sono le informazioni più schematizzate in forma grafica. Può spiazzare un po' rispetto alla situazione precedente ma basta solo abituarsi. Andremo a vedere in questo video che cos'è la visura prima di tutto, come si legge la visura attuale, il nuovo layout attuale, andremo a vedere gli esempi che fa l'agenzia delle entrate per quanto riguarda la visura attuale per soggetto e per immobile, la visura storica per soggetto e per immobile e poi andremo a vedere alla fine dove puoi richiederla, come puoi richiederla. Ho fatto un vecchio video sull'argomento ma qui riaggiorniamo un pochino, anche perché nel frattempo è cambiato un po' l'accesso ai portali SISTER, SPEED e la possibilità di accedere a questi documenti in forma gratuita per quanto riguarda i tuoi immobili. Cos'è e a cosa serve la visura? È un documento rilasciato dall'ufficio provinciale, dall'ufficio provinciale il tuo ufficio competente, oppure magari anche su un ufficio di un'altra provincia, sono tutte connesse, oppure le puoi fare online. Troverai le informazioni degli immobili, sia dei terreni che dei fabbricati, perché il catastro, il vecchio catastro, la sezione territorio dell'Agenzia delle Entrate, si divide in terreni e fabbricati. Troverai i dati identificativi e di classamento, i dati anagrafici delle persone fisico-giuridiche che sono intestatarie della particella o dell'immobile, i dati grafici dei terreni, se fai la visura della mappa, o delle unità immobiliari, cioè la visura planimetrica. Ma qui non stiamo parlando di questo, in questo video non ti farò vedere come si richiede la mappa, l'estratto di mappa, o la visura planimetrica. La visura planimetrica addirittura c'è bisogno, la puoi scaricare solo te in quanto titolare dell'immobile, o un delegato tramite delega. Invece le visure classiche, quelle dove ci sono le informazioni del classamento, rendita, categoria, possono essere fatte da chiunque a pagamento. Troverai anche l'indirizzo, le causali dell'aggiornamento, cioè perché e in base a quali atti è stato attribuito le attuali informazioni. Inoltre è possibile consultare le monografie, e questo non ci interessa, dei punti fiduciali, l'elavorato planimetrico, questo potrebbe essere interessante, legata alla questione delle visure, delle planimetrie, ma anche per capire come sono distribuiti graficamente i subalterni, subalterni sono le unità immobiliari che trovi in visura, come sono distribuite, e gli atti di aggiornamento catastali. Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie, riservate esclusivamente agli eventi diritto o ai loro delegati, sono pubbliche, e l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali, nel rispetto della normativa vigente. L'estratto di mappa, e le visure catastali, possono essere fatte da chiunque. Il nuovo modello è un documento descrittivo, e di più facile comprensione rispetto a quello precedente, però come ogni cosa che affrontiamo nella vita, quando ci siamo abituati ad un determinato modo di trovare le cose, dal punto di vista grafico o descrittivo, ecco che il cambiamento ci destabilizza un attimo, mentre per chi magari si approccia la prima volta al nuovo metodo, effettivamente potrebbe risultare di più semplice lettura. L'esposizione dei dati all'interno della visura, infatti, è organizzata in maniera tale da favorire una più agevole lettura, che consente di fornire un maggior numero di informazioni. Le sezioni di questo nuovo modello sono divise in intestazione della visura, nella quale troviamo il logo dell'Agenzia delle Entrate, la direzione provinciale, che ha rilasciato il documento, la data e l'ora della visura, il numero della pratica, il tipo di catastro, terreno urbano, la tipologia di visura, la data a cui è riferita la consultazione. Poi troviamo i dati identificativi, il riferimento alla partita, se c'è la partita catastale, le particelle corrispondenti al catastro terreni, per gli immobili al catastro fabbricati, poi abbiamo l'indirizzo dell'immobile, del terreno no, questo solo per gli immobili urbani, i dati del classamento, quindi la rendita, la categoria, la classe, la superficie, la superficie totale escluse le aree scoperte solo per categorie di gruppo A, questa sezione è presente per gli immobili iscritti al catastro fabbricati censiti in categoria ordinaria, l'intestazione dell'immobile, quindi dati anagrafici, nome, cognome, luogo, dato di nascita, codice fiscale del soggetto o della persona fisica o della persona giuridica che è intestataria dell'immobile, completano il documento alcuni dati contabili con riferimento alla ricevuta, quindi pagamenti per la richiesta della visura, infine è presente una leggenda in cui è fornito il dettaglio di alcuni termini tecnici utilizzati nella visura. Tra le novità del nuovo modello, la visura vi è anche l'introduzione della sezione dedicata alla leggenda in cui sono riportate informazioni utili a chiarire il significato dei dati riportati in visura. Queste informazioni riguardano il riferimento alle categorie catastali, confermamento a quanto riportato nel quadro generale, l'indicazione della presenza di un soggetto codice fiscale non validato in anagrafici tributaria e l'esistenza di un soggetto con più codici fiscali collegati. I dati riportati nella sezione omogenee inoltre sono suddivisi su due colonne che per ciascuna, adesso fra poco andiamo a vedere graficamente di cosa stiamo parlando, su ciascuna delle quali indicano nella colonna di sinistra la relativa informazione censuaria, nella colonna di destra la relativa causale di aggiornamento e annotazione come di seguito riportato, i dati identificativi, indirizzo, dati di classamento, superficie intestatari. Eccoli qua gli elementi grafici. Elementi grafici come questo che indica il catastro terreni, quindi per individuare subito l'immobile di cui si sta parlando, il catastro fabbricati, indicato da questa casettina qui, il simbolo, se la richiesta della visura per le consultazioni fatte per soggetto, perché le consultazioni possono essere fatte per soggetto, cioè per l'intestatario, cerchi nome e cognome o il codice fiscale del soggetto che è intestatario dell'immobile. O per immobile, se tu hai foglio, particella, eventuali subalterni, fai la ricerca in questo modo. Il simbolo riportato in corrispondenza delle informazioni relative alle causali di aggiornamento e annotazioni, quindi in base a quali atti e eventuali annotazioni si determinano i dati che sono contenuti nella visura, simbolo riportato nelle visure storiche che andremo a vedere un po' più avanti in corrispondenza ad ogni singolo periodo temporale. Andiamo a vedere la visura attuale, cioè la visura che fotografa lo stato attuale agli atti per quanto riguarda l'immobile che stai cercando. I modelli di visura attuale si differenziano in particolare per soggetto, per immobile al catastro fabbricati, per immobile al catastro terreni, per immobile al catastro terreni, situazione catastale relativa ad un immobile rurale presente in catastro con più qualità culturali insistenti sulla stessa particella. Si riportano di seguito i modelli delle visure attuali più frequenti con la descrizione delle sezioni dei relativi campi. Eccola qui come si presenta a colpo d'occhio la nuova visura catastale per soggetto allo stato attuale, visura attuale per soggetto. Eccola qui un esempio. Adesso andiamo a vedere le varie sezioni. Qui vediamo qua sopra, come diceva prima, la descrizione dell'agenzia, la data, qui abbiamo il soggetto, il tipo di immobile, eccole qui, i fabbricati e le causali, i dati identificativi dell'immobile, l'indirizzo, il classamento, l'intestatario, eccoli qui. Andiamo a vederli uno a uno. L'intestazione. Nell'intestazione della visura sono riportate le seguenti informazioni. A sinistra il logo dell'agenzia, riportato all'ufficio provinciale e la sezione della quale si sta facendo la visura. A destra, data, numero visura, numero pagina, segue, fine. Visura attuale per soggetto, i dati riepilogativi, quindi la situazione alla data attuale dei terreni fabbricati, quindi abbiamo cercato per soggetto in questo caso sia terreni che fabbricati in tutta la provincia di Ravenna. in questa parte sono indicati la richiesta relativa alla ricerca effettuata su terreni e fabbricati in tutta la provincia. I dati anagrafici del soggetto perché il soggetto che abbiamo cercato poi potrebbero questi immobili essere intestatari e cointestati con altri soggetti che ne hanno diritto. Il numero totale degli immobili scritti al catastro terreni e al catastro fabbricati. Eccolo qui. Uno. Dati di dettaglio per scusa della sezione sono riportati su due colonne a sinistra immobili e catastro fabbricati numero o immobili catastro terreni numero a destra causale aggiornamento e notazioni. Qui vediamo i dati identificativi comune di Ravenna foglio particelle subalterno e l'eventuale partita dall'impianto troviamo questi dati poi abbiamo le particelle corrispondenti al catastro terreni di questo fabbricato perché potrebbero non essere le stesse dovrebbero essere le particelle quando parliamo di fabbricati dovrebbero corrispondere ed essere allineate con lo stesso numero ai terreni in questo caso lo sono nella maggior parte dei casi è così particelle corrispondenti al catastro terreni comune di Ravenna eccetera eccetera foglio 24 particella 4000 la via dove è ubicato quest'immobile la via è indicata solo per gli immobili all'urbano non per i terreni anche questo dall'impianto meccanografico ma potrebbero esserci qui delle dei dati che vanno a indicare un atto che è andato recente più recente che è andato a modificare ad aggiornare lo stato attuale i dati del classamento la rendita la zona censuale la categoria classe e la consistenza visto che parliamo di un'abitazione in vani abbiamo anche la superficie catastale corrispondente dell'abitazione superficie di impianto pubblicata il 9 11 2015 dati relativi alla planimetria data di presentazione del 54 qui probabilmente d'ufficio hanno proceduto a ricavare la superficie che ora viene fornita in modo automatico tra virgolette dal tecnico che presenta il TOCFA per ogni immobile iscritto al catasto fabbricato ai terreni l'esposizione dei dati segue la stessa impostazione utilizzata per le visure attuali di catasto fabbricato ai terreni fino ad un massimo di 10 immobili posseduti dal soggetto della richiesta intestazione attuale degli immobili eccola qui abbiamo l'intestazione e eventuali altri quindi qui magari è lo stesso soggetto nome attraverso il quale abbiamo fatto la richiesta eccolo qui abbiamo la data di nascita il tipo di diritto proprietà in questo caso un primo millimillesimi totale proprietà dell'immobile documento del 13 4 94 ecco qui che abbiamo una notazione da dove deriva quest'intestazione attuale voltura in atti dal minore repertorio arrogante è stato fatto un atto a Bologna ci sono tutti gli estremi che ha fatto sì che questo soggetto si intestasse all'immobile gli immobili sono raggruppati quando presentano la stessa titolarità che viene esposta di seguito nell'elenco con questo titolo intestazione attuale degli immobili degli immobili totali intestati dati contabili documento rilasciato da dati contabili cioè il costo di questa visura sono relativi alla liquidazione dei tributi riscossi e riportano il numero della ricevuta all'importo totale dei tributi speciali il nome e cognome del richiedente prima veniva fornito in un altro file ora viene tutto indicato nello stesso anche nella precedente visura si indicava diciamo alla fine della visura il costo totale questo effettivamente non è cambiato leggenda le informazioni aggiuntive utili per una migliore lettura dei dati qui abbiamo A3 abitazione di tipo economico la categoria che abbiamo trovato prima e B esclusa le superfici dei balconi terrazzi qui per quanto riguarda le superfici che abbiamo ritrovato sempre qui nella visura eccola qui sotto il classamento dati di superficie 77 e 76 metri qua perché 77 e 76 totale e totale escluse aree scoperte come dice anche qui escluse le superfici dei balconi terrazzi e aree scoperte pertinenziali accessorie comunicanti o non comunicanti come da provvedimento del 2013 poi ci sono vari particolari come se il codice riscale esiste in anagrafe tributaria o non esiste poi questi sono dei particolari che bisognerebbe andare a vedere caso per caso per ogni categoria catastale viene riportata la dicitura completa come da quadro generale delle categorie catastali allegata alla pubblicazione immobili d'Italia 2015 sono presenti inoltre le definizioni di BCC bene comune sensibile e BCNC bene comune non sensibile e questi ce li ritroviamo solitamente nell'elaborato planimetrico passiamo ora alla visura attuale sempre attuale ma per immobile cioè questa volta non cerchiamo la visura non facciamo un'interrogazione per nominativo cioè a nome del proprietario del titolare ma avendo i dati dell'immobile quindi foglio particella comune subalterno eventuale sezione tutte queste cose qui questo è il layout che comunque è molto simile a quella precedente tranne che cambia qui l'indicazione visura attuale per immobile situazione degli atti situazione degli atti informatizzati al 2610 2020 l'intestazione come sempre c'è la descrizione che abbiamo visto prima i dati identificativi dell'immobile richiesto quindi l'immobile che vai a ricercare la colonna di sinistra contiene i dati identificativi completi della sezione amministrativa urbana se presenti in riferimento alla partita cadastrale se presente nella colonna di destra viene richiamato l'ultimo atto perché non stiamo facendo la storica ma attuale l'ultimo atto di aggiornamento che ha modificato i dati dati relativi all'indirizzo troviamo anche qui abbiamo cercato anche qui un immobile urbano non una particella ai terreni dati relativi all'indirizzo la variazione toponomastica che è stata fatta d'ufficio nella colonna di sinistra è riportato l'indirizzo dell'immobile in quella di destra l'ultimo atto di aggiornamento i dati del classamento quindi A2 classe prima 6 vani la variazione del classamento del 2011 protocollo RA001 in atti dal 2011 variazione classamento annotazione c'è anche una annotazione qui classamento e rendita non rettificati entro 12 mesi dalla data di iscrizione su questo ho fatto un video dove l'agenzia ha pubblicato una recente circolare per quanto riguarda la rettifica delle rendite entro 12 mesi dalla proposta da quando viene fatto l'accatastamento o la variazione nella colonna di sinistra sono presenti la rendita cadastrale l'eventuale zona censuaria appartenenza categoria nella colonna di destra sono indicati l'ultimo atto di aggiornamento eccetera i dati della superficie variazione dell'11-21 protocollo in atti dal dominamento rettifica superficie dati relativi alla planimetria di presentazione rettifica superficie su istanza quindi è stata fatta un'istanza per rettificare la superficie acquisita gli atti al protocollo quindi qui è stata fatta una modifica dei dati successivamente nella colonna di sinistra viene riportata la superficie cadastrale nella colonna di destra viene richiamato l'ultimo atto di aggiornamento l'intestazione qui abbiamo cercato per foglio particella subalterno e abbiamo qui due intestati quindi tutti i dati nome, cognome codice fiscale data di nascita eccetera eccetera e l'atto che ha determinato l'attuale intestazione compra vendita donazione successione la voltura nella colonna di sinistra sono indicati l'elenco degli intestatari B le eventuali riserve nella colonna di destra perché potrebbero esserci delle riserve annotate alle intestazioni nella colonna di destra viene riportato l'elenco degli atti che hanno generato i diritti e le quote per ogni intestatario i dati contabili finali della visura e la spiegazione in leggenda di alcuni dati particolari tecnici a due abitazioni di tipo civile le superfici con esclusione di terrazzi scoperte pertinenziali accessorie il codice fiscale non validato in anagrafe tributaria per ogni categoria catastale viene riportata la dicitura completa come da quadro generale delle categorie catastali se nell'intestazione è presente un codice fiscale storicamente collegato a un soggetto e se tale soggetto al momento della richiesta ha un codice fiscale validato in anagrafe tributaria diverso dall'originario è inserita la dicitura a codice fiscale collegato al seguente eccetera passiamo adesso invece alla visura attuale per immobile al catastro terreni quindi qui facciamo una visura del terreno dove non c'è un fabbricato senza un fabbricato accatastrato sopra ecco qui il simbolino che cambia troviamo anche qui qui la ricerca la facciamo per foglio e particella sì immagino visura attuale per immobile esatto eccolo qua foglio 17 particella 5000 il frazionamento che ha generato questa particella il frazionamento del 2009 i dati del classamento quindi la superficie il reddito dominicale il reddito agrario e il frazionamento che ne ha determinato il classamento che è lo stesso che ha frazionato la particella l'intestazione attuale come per il catastro urbano non c'è l'indirizzo avete visto perché ai terreni non c'è l'indirizzo la via non c'è cognome nome e tutti i dati e la proprietà il titolo e la quota di titolo dell'intestatario o degli intestatari attuali nel caso in cui i soggetti titolari di diritto di immobili lo abbiano acquisito tramite più atti pubblici precedenti adatti di cui punti A e B viene esposto un riepilogo dei soggetti completi di dati anagrafici con la somma della quota di diritto dell'immobile i dati contabili finali la leggenda col codice fiscale non validato in anagrafe tributaria passiamo ora invece ad un esempio di visura per immobile al catastro terreni ma diviso in porzioni perché ci sono delle particelle che possono essere divise in porzioni in diverse qualità del catastro terreni in questo caso la visura è sempre per foglie e particella ecco qui la divisione in porzioni una parte è seminativo una parte è prato una parte è seminativo 1100 metri quadri il prato è 650 metri quadri la somma di questi due dà la superficie totale della particella eccolo qua 1750 metri quadri questo perché cambia la rendita in base alla qualità e alla classe della porzione di particella questo in sostanza è tutto uguale al precedente tranne che è diviso in porzioni quindi tutte le parti poi sono identiche alle precedenti passiamo ora invece alla visura storica la visura storica si differenzia per l'esposizione delle informazioni censuari per periodi temporali e in base all'ordine cronologico con cui sono state sono entrate in banca dati cioè ci va a fare la storia di tutti gli atti che hanno modificato man mano dal più vecchio all'attuale tutta la situazione che troviamo in visura dai soggetti dalle intestazioni dagli atti che ne hanno derivato che ne hanno modificato le intestazioni alla situazione urbana o terreni frazionamenti accatastamenti variazioni modifiche varie può essere fatta per soggetto o per immobile la visura storica sia per soggetto che per immobile può essere richiesta in due formati analitico o sintetico la visura analitica visualizza il nuovo layout grafico quindi se vai a fare la visura analitica troverai questo nuovo layout mentre la visura sintetica è fornita nel formato precedente che vediamo tra poco ecco qui la visura storica per soggetto un esempio di visura storica per soggetto fatto in modo analitico quindi abbiamo qui la dicitura visura storica per soggetto situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico ci danno delle informazioni eccolo qui dati della richiesta terreni fabbricati in tutta la provincia di Ravenna a nome del soggetto il soggetto col codice fiscale da Nato a Il i dati in dettaglio quindi dati della proprietà proprietà per un quarto dati identificativi comune di Ravenna foglio 3 particella 110 subalterno 138 l'indirizzo dati del classamento attuale la superficie e le particelle corrispondenti al catastro terreno per ogni immobile iscritto al catastro fabbricati terreni l'esposizione delle informazioni censuali e riporti i dati identificativi l'indirizzo per gli immobili ai fabbricati i dati del classamento eccetera eccetera l'immobile numero 2 al catastro fabbricati perché con la visura abbiamo trovato la visura storica abbiamo trovato due immobili l'immobile numero 2 con tutti i dati che abbiamo visto prima quindi i dati della proprietà il classamento le superfici eccetera e alla fine troviamo i dati contabili quindi troviamo in ordine cronologico crescente dal più vecchio al più recente i dati che hanno determinato l'attuale intestazione e l'attuale classamento esempio di visura storica sintetica questo è il vecchio la vecchia visualizzazione della visura questa alla quale sono un po' affezionato devo dire la verità perché non cambiava oramai da decenni perché da quando è stato da quando è stato informatizzato all'inizio anni 2000 fine fine anni 90 inizio anni 2000 il catasto ecco che questa è rimasta visura storica per immobile quindi non più per soggetto ma per immobile esempio visura storica per immobile catasto fabbricati andiamo a ricercare per foglie particelle sub e qui vediamo quante informazioni troviamo quindi tutte le variazioni che sono intervenute nel tempo andiamo a vedere nel dettaglio le informazioni riportate negli atti al catasto al 25 febbraio 2021 le attuali al 25 febbraio 2021 gli intestati catastali troviamo i dati relativi all'indirizzo quindi qui troviamo in ordine crescente crescente dal più vecchio al più recente troviamo tutte le situazioni quindi dal 2004 al 2011 l'immobile dal 2011 al 2014 dal 2014 al 2021 vediamo che qui le sono cambiate ad esempio via nazionale numero 7 qui è stata cambiata ad esempio il numero civico quindi una variazione toponomastica qui abbiamo una variazione bonifica identificativo catastale cosa significa sezione urbano mus ecco qui mus sezione urbano ravenna ok è cambiato l'identificativo catastale nella colonna di sinistra dopo la dicitura indirizzo nella colonna di destra l'atto di aggiornamento e qui troviamo il simbolino che riguarda la visura storica i dati del classamento quindi tutta la storia di ciò che ha generato il classamento attuale dal 2004 al 2005 ha avuto questo classamento a 7 classe seconda 8,5 vani classamento e rendita proposti annotazione dal 2005 al 2011 c'è stata una variazione del classamento classamento e rendita non rettificati entro 12 mesi che cosa è cambiato andiamo a vedere la rendita rimasta uguale a 7 classe 2 consistenza 8,5 vani poi abbiamo il classamento sempre una variazione modifica identificativo qui passiamo a RA ma di fatto la rendita è rimasta identica qui potrebbe cambiare che ad esempio cambia la categoria potrebbe cambiare la classe potrebbe cambiare la consistenza se sono intervenuti nel frattempo delle modifiche all'accatastamento i dati della superficie con i criteri con i quali vengono identificati quelli che abbiamo già visto la storia degli intestati dell'immobile e qui andiamo a vedere come a chi sono stati intestati nel corso del tempo dall'8 4 2004 al 2005 abbiamo questa intestazione dal 2005 al 2011 abbiamo un'altra intestazione dal 2011 al 2021 abbiamo quest'altra intestazione bonifica identificativo catastale ok quindi qui l'intestazione è rimasto lo stesso del precedente mentre prima è cambiato il soggetto nome e cognome codice fiscale sono diversi da questo a questo qui è rimasto lo stesso è stata modificata solo quella variazione che abbiamo visto prima i dati contabili la leggenda e tutto quanto andiamo invece a vedere l'esempio di visura storica per immobile fatto in modo sintetico quindi questa è una visura storica fatta per immobile vecchia maniera dove troviamo la storia sempre dell'immobile e la storia degli intestati ecco qui troviamo situazione degli atti dal 93 poi situazione intestati dal 2003 tutte le variazioni che sono intervenute nel tempo ora andiamo a vedere come si richiede la visura i metodi sono diversi i servizi gratuiti online il servizio di consultazione personale online consente di ottenere gratuitamente e limitatamente agli immobili dei quali il richiedente risulta titolare dei diritti reali una visura allo stato attuale la visura della mappa la planimetria e l'ispezione ipotecaria se clicchiamo qui ci ritroviamo nella pagina dell'agenzia delle entrate dove ci riepiloga le modalità per accedere alla consultazione personale ecco qui il pulsantone consultazione personale entri con il tuo speed e all'interno trovi la la possibilità la sezione dove puoi fare la consultazione personale del del tuo immobile dei tuoi immobili si può accedere o tramite speed o con carta di identità elettronica o con carta nazionale servizi le credenziali dell'agenzia delle entrate per l'accesso e entrate del fisco online fino a quando saranno in uso ora si accede solo con speed l'altro metodo è invece attraverso i servizi online a pagamento quindi se devi fare una visura che non riguardano le tue proprietà dovrai accedere potrai accedere per fare le visure ma a pagamento le visure attuali per soggetto puoi fare le visure attuali o storiche per immobile le visure della mappa i documenti sono forniti su file in pdf il servizio prevede un pagamento online tramite pago pa pago pubblica amministrazione per ogni visura erogata il servizio visura catastale telematica l'importo è di 1,35 per ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 in caso di visura per soggetto 1,35 nel caso di visura attuale storica per immobile 1,35 in caso di visura della mappa si accede al servizio senza alcuna registrazione digitando il codice fiscale dalla pagina quindi se non hai la registrazione puoi accedere attraverso questo link dove puoi fare le visure catastali accedendo con i tuoi dati e proseguire per bisogna accettare il contenuto eccolo qui confermo avanti inserisci il tuo codice fiscale fai invio e fai tutte le ricerche che devi fare oppure altro metodo per richiedere la visura è recarsi presso l'ufficio più vicino qualsiasi ufficio provinciale ti permette di fare la visura in qualsiasi parte d'Italia lo sportello catastale oppure presso gli sportelli catastali decentrati comuni comunità montane unione dei comuni associazione dei comuni solitamente presso l'agenzia delle entrate è possibile fare la ricerca catastale quindi questi sono i tre metodi principali di per poter fare la visura catastale non ho descritto il metodo attraverso sister che dovrebbe essere attraverso questo link ti porta alla possibilità di accedere a sister sister che è accessibile attraverso il proprio il proprio account attraverso il proprio speed in entrate al fisco online se clicchi su accedi a sister non puoi accedere più con le credenziali devi andare nella nuova area riservata che di fatto ti riporta alla precedente dove riaccedi nel tuo entrate al fisco online dove trovi se sei autorizzato se sei professionista se ti sei iscritto a sister e paghi il relativo accesso annuale eccetera eccetera puoi fare le visure puoi presentare documenti ecco questo è più magari per i tecnici che non per il singolo proprietario che deve fare la propria visura o deve fare una visura per un amico eccetera eccetera con questo abbiamo chiuso il video è un po' più lungo di quello che mi aspettavo comunque la guida è molto completa vi lascio in descrizione tutti i link per gli accessi a queste modalità se hai dei dubbi scrivimi nei commenti oppure scrivimi un'email e vediamo un po' di capire come si potrebbero risolvere le eventuali problematiche che trovi per l'interrogazione alla visura catastale e saluto Grazie.